Oriana Marzoli sembra aver voltato pagina dopo la storia con Daniele del Moro finita come sappiamo e adesso ufficializza il nuovo amore Una delle storie più seguite della settima stagione di Grande Fratello Vipe è stata quella di Oriana Marzoli e di Daniele dal Moro La storia d'amore tra i due è stata passionale quanto tormentata, fino a maggio dello scorso anno La notizia della rottura tra i due è stata diffusa dalla conduttrice Daniela Randis nel programma Seguimi In tale occasione era emerso come Oriana avesse una relazione con un partecipante di nazionalità argentina, il 34enne Facundo González Adesso, a distanza di oltre un anno, sembra che sia Oriana sia Daniele siano andati avanti con le loro vite Daniele dal Moro e Oriana Marzoli, la storia d'amore tra i due concorrenti di Grande Fratello Vipe Oriana Marzoli, nata a Caracas, in Venezuela nel 1992, è entrata a far parte del mondo dei reality show Famosa per aver partecipato nel 2012 alla versione spagnola di Uomini e Donne, Mujeres Y Ombres Oriana ha conosciuto qui Tone Spina, il ragazzo di origini italiane con il quale si fidanzerà Nel 2014 Oriana partecipa a Survivors, versione spagnola dell'Isola dei Famosi In Italia, la donna è famosa per la partecipazione a Grande Fratello Vipe Qui conosci Daniele Dal Moro. Nato nel 1990 a Verona, è il figlio del deputato P.D. Gian Pietro Dal Moro Dal Moro ha partecipato a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello XVI Nel 2020 torna a Uomini e Donne, però stavolta come tronista A Grande Fratello Vip, Daniele conosce Oriana e la loro storia d'amore diventa la più seguita del momento, fino alla rottura Adesso sembra che entrambi stiano andando avanti con le loro vite, soprattutto Oriana Daniele Dal Moro, subito dopo la rottura, aveva condiviso una commovente dedicata per Oriana L'extronista di Uomini e Donne aveva raccontato che i loro caratteri sono molto diversi, ma gli opposti si attraggono, per questo loro si erano trovati Nella puntata di Gente di Marte, Radio Marte, la speaker specializzata nel gossip dei Anira Marzano ha parlato di Oriana Marzano, ufficializzando la relazione tra la ex concorrente di Grande Fratello Vipe e Facundo González Come rivelato da Amedeo Venza, Oriana ha fatto sapere ai suoi fan che l'ashta giusto non è più cancelletto Riele, riferito alla storia con Daniele Dal Moro, bensì cancelletto Marzolets dall'unione dei cognomi Marzoli e González Grazie mille